E' il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale Patavino di lunedì 23 luglio, convocato alle ore 18, relatore il Vice Sindaco Arturo Lorenzoni, approvazione dello schema di accordo per la realizzazione del nuovo polo della salute ospedale di Padova. Una richiesta di voto che dovrebbe trovare ampi consensi anche nel centrodestra, che con l'amministrazione Bitonci approvò la collocazione del nuovo policlinico a San Lazzaro. Per tutti i padovani una buona notizia. Basta che ci siano i giorni, la paglia del pallone. Senta, pensa che sia utile alla medicina padovana, che è una medicina riconosciuta a livello nazionale e internazionale? Ritengo di sì. Se si va in meglio penso che la comunità ne avrà un beneficio se la struttura sarà adeguata alle aspettative. Padova ha una cultura da questo punto di vista che è primaria in Veneto e senz'altro sarà il caso di implementare le strutture perché essa possa continuare a dare un pezzo di storia importante alla città.